the gott awards allora cosa cosa succede ragazzi che noi avevamo chiesto come voi sapete una cifra di più o meno 30 bombe 30k a twitch per produrre i the gott awards e farli in un teatro non ci hanno data ancora risposta anche se il progetto gli piace abbiamo deciso di farlo noi per il momento di farlo online di fare questa prima edizione che in realtà è la prima volta che si chiama the gott award ma in realtà 5 gennaio non febbraio mi sono sbagliato che in realtà sono già due anni che lo facciamo ma lo facevamo solo su instagram invece a quest'anno abbiamo deciso di aprirlo anche agli altri social sono uscite le prime quattro categorie delle 16 diciamo categorie che compongono i the gott awards ve le faccio un attimo vedere allora queste sono le categorie aspettate che vi zoom un attimo così vedete questo è già il 200 per cento ecco qua allora queste sono le categorie sono gott gamers miglior intrattenimento intrattenitore nel mondo del gaming sportivo best podcast miglior podcast sportivo l'inside il miglior insider di mercato social youtuber il miglior account youtube opinionista sportivo il miglior influencer instagram sportivo il miglior opinionista sportivo su twitter il miglior account sportivo su tiktok tiktokers god marketing god il miglior advertising sportivo che due coglioni mamma mi ha lasciato ma vai a leggere un altro po te che mi hanno già rotti i coglioni mi hanno già rotti i coglioni social social ma perché rezzemilla ragazzi io sono un po un ibrido artwork miglior grafico su instagram fantagot il miglior esperto di fantacalcio sui social gott magazine miglior testata online tip goal miglior tipster sui social brand gott miglior brand sportivo meme page names page miglior pagina di meme satirica comedian god miglior account comedy sportivo e lo sfogo gott secondo me ne potrebbe mancare qualcuno chiedo anche alla chat che cosa ne pensa secondo me manca vi dico la verità il miglior post partita che non è stato messo che ce ne sono tanti mi viene in mente quello di calcio totale la bobo tv che secondo me viene visto come un podcast ma in realtà un po spartita mi viene in mente fuse gamer mi viene in mente mike shosha ce ne sono tanti che fanno i post partita un po come noi facciamo balconate no salottino post partita sì anche tiki taka perché poi bobo tv fa il lunedì per esempio però voglio dire sia dove si analizzano il calcio giocato esatto lunedì e il venerdì la bobo tv va beh il venerdì fa una cosa a parte e lunedì fa parla del amala tv bravissimi amala tv ce ne sono tanti che fanno i post partita secondo me quello lì un pochino manca e si potrebbe pensare anche a quello grazie a er recco de roma per il settimo mese continuate così allora ma andiamo a vedere le categorie poi magari pensiamo appunto di aggiungerne insieme delle altre allora quelle diciamo che sono già uscite ricordo che praticamente per chi non ha seguito su instagram ragazzi è fatto in questo modo tramite un box domande voi candidate le persone candidate le persone tramite un box domande dopodiché vengono messi 10 indicativamente dai 7 ai 10 candidati più votati all'interno delle storie instagram e vengono ridotte a 6 che vengono messe in questo post qua che adesso vi vado a far vedere vi vado a condividere il compito nostro di oggi è portarlo da 6 a 3 ok per ogni categoria partiamo con la prima miglior podcast allora il miglior podcast c'è da diana roba che c'eravamo anche noi ovviamente ci siamo tolti perché era abbastanza imbarazzante come roba auto votarci no sul nostro canale insomma quindi abbiamo deciso di dire il resto è perfetto quella cosa sarebbe stata imbarazzata allora io direi di andare a votare chiedo intanto a se già li conoscete tutti diciamo questi qua che ci sono e sto parlando ovviamente di zona ajg tv che sono i nostri amici della juve poi c'è storie in cuffia ragazzi che il podcast più seguito su spotify italia che sul basket non ci sono anche su twitch ma sono molti più presenti su spotify vi vedete ad andarla a vedere dopo di che abbiamo cronache di spogliatoio che non ha bisogno di presentazione hanno un podcast diciamo più su youtube che su twitch dove ci hanno provato ma secondo me sono più adatti per la post produzione loro che per l'intrattenimento perché diciamo sono un po più introspettivo come tipo di intrattenimento poi c'è zona fantacalcio che è un podcast di twitch è trovato anche su spotify la bobo tv che è stata votata tantissimo anche se secondo me non è non può essere considerato un daily podcast e poi juventibus juventibus e non dici niente no ho fatto anche l'applauso che cazzo devo fare di più grande juventibus un canale della juve io conoscevo di chi è juventibus eh di chi è juventibus ah del grande edoardo mecca ovviamente dell'irreprensibile mecca no vabbè ragazzi una vecchia meme comunque allora questi comunque sono i sei candidati chiedo da eri miga da hugo manfre di esprimere un proprio parere se secondo loro qual è il migliore ah proprio uno ok uno oppure anche sugli altri allora io vi dico il mio per me è overtime storie in cuffia perché io lo sento su spotify tra l'altro vi dico una roba perché pancio best boomer nei sondaggi c'è gente che ha più voti di alcuni nei post ma fede guarda non lo so c'è un occupato infante ben vengono comunque le polemiche all'interno del delle votazioni e non so dice praticamente sì ma pancio sono sbagliati nei sondaggi c'è gente che ha più voti di alcuni nei post fede facci l'esempio no però scusami ma non votano con le storie votano con le storie instagram e lo portano a sei persone ok ma loro magari pensano che si vota con i perché hanno scritto il post magari pensano che si vota col post e si sono andati a contare sotto il post i voti può essere sì ma poi nelle storie vedono delle percentuali non vedono dei numeri quindi come fai a dire che uno è più votato rispetto a un altro beh vedi le percentuali no io vi dico poi al momento in cui ha fatto votato in 10 come in 100 sì sì al momento secondo me magari nel momento in cui lui ha fatto il post aveva più voti qualcun altro però dico sai che diciamo i concorsi funzionano se ci sono delle polemiche se no se non se non ci sono polemiche non se ne incula nessuno no cioè l'unica cosa che ha avuto importanza nel come si dice nel pallone d'oro è stata la polemica su messi che era uscito il giorno prima ma anche miss italia anche quelli che non c'entrano un cazzo col calcio cioè o c'è la polemica o a nessuno gliene fotto un caglio l'ultima miss italia che mi ricordo è quella là che aveva detto la roba della guerra non so se ve la ricordate che avrebbe voluto fare la guerra comunque ste cazzate qua vabbè comunque però venendo a noi venendo a noi allora vai miga parti tu ah io ho detto il mio overtimes a parte che io a livello di podcast non è che ascolti molto a livello sportivo proprio per non lo so forse perché a livello podcast mi voglio un po staccare dal mondo sport però ho avuto modo di sentire quello di overtimes nonostante io non segua tantissimo il basket mi prendono come come gestiscono il loro podcast e ho visto anche qualche puntata invece di juventibus e sono sono forti sono veramente forti quindi tu dici juventibus juventibus e overtimes e posso dirne due ok prego auguro vi ricordo ragazzi che oggi dobbiamo uscire da qua con tre candidati e poi ci sarà una giuria scelta ragazzi da noi ovviamente ma molto aperta ci sono gli autogol c'è biasin c'è calciatori ignoranti calciatori brutti chiunque praticamente ragazzi sono 25 addetti ai lavori che selezioneranno e voteranno in modo che non vince quello con più fan ma vince quello diciamo migliore tra i più votati prego auguro allora per quanto riguarda io conosco quello sul basket perché mi piace molto perché comunque il basket è uno sport un po di nicchia e da questo punto di vista anche difficile parlarne con competenza loro lo fanno in maniera secondo me più leggera e però allo stesso tempo competente la bobo tv mi piace solo quando portano gli ospiti per il resto quando parlano tra di loro mi sembrano le chiacchiere da bar e poi mi sembrano sai quei vecchi tromboni ma ti ricordi quando io uscivo con quelle ragazze così sembra un po troppo retro cioè fanno un po troppo di ricordi quindi io voto quello il podcast quello su sul basket perché mi piace più di tutti anche perché è uno sport che seguo manfre allora io dico zona fanta e quello sul basket non li conosco sono diretto cronache e bobo tv e per cronache intendo cronache su twitch non mi fanno impazzire e mi trovo a questa dura scelta tra le due i due canali giuventini dai scegli 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 il migliore molto dura molto dura e devo dire che di pochissimo perché alla fine secondo me sono fatti bene tutte e due vado su ajg perché allora io dicevano anche juventibus porta sempre ospiti importanti moggi campagna trevisani repice cruciani verissimo verissimo e questo gli va dato atto perché danno un sacco di valore alla piattaforma che scherziamo sempre ma fanno un super lavoro io infatti loro voto perché portano molti moltissimi contenuti rispetto agli altri poi la bobo tv non lo vedo come un che non mi arriva scusami la bobo tv non la vedo proprio come un podcast lo vedo come un pomeriggiano così che parlano di calcio una volta la settimana un podcast deve essere ogni giorno e invece quello di del basket non lo seguo perché non mi piace il basket devo essere onestamente e agdv a volte li seguo ma con tutto rispetto non è che mi fanno impazzire c'era no no lecito è giusto che ognuno abbia suo parere allora petterania che c'è un problema importantissimo ricard detto coc che ha cambiato il nome per noi tra l'altro dice che non fa donare gli abbonamenti ragazzi se qualcuno può provare a donare un abbonamento grande miga che invece lo fa donare dona un abbonamento però dicono che il miga essendo vita no scherzo no allora ricca le fa donare grazie miga grazie mille ragazzi iscrivetevi c'è qualcuno che vuole boicottare il futuro di ricard nella nostra squadra dicono che ricard abbia finito i soldi ciao poverino va bene ragazzi allora iscrivetevi al canale di miga e ritorno a dirlo allora andiamo col sondaggio e vediamo chi passa il turno ragazzi momento noi che abbiamo votato il nostro voto non c'entra un cazzo ah io beh io ero ero tesso cioè potevi dirmelo che era no no era pur parler un attimo per allora ve lo rimetto qua così intanto lo scrivo tre finalisti best podcast podcast allora c'è aj tv tv poi c'è over time poi c'è abbiamo un ride di amala tv grazie mille ragazzi agli amici di amala tv tra l'altro vi aspettiamo in live ma è vero mafra che li hai chiamati e non t'hanno cagato questa cosa qua no ma tra l'altro un mio amico quello che lo fa è ilario e no non mi ha risposto però penso che perché ha cazzi suoi da fare però lo aspettano beh stanno sempre stanno ah è un nostro addirittura grazie mille amici di amala tv ragazzi stiamo facendo i got award che praticamente sarebbero gli oscar degli addetti ai lavori delle figure diciamo social cioè stiamo premiando il miglior podcast abbiamo fatto una preselezione dico per chi si è collegato adesso dei migliori su instagram dei più votati non dei migliori su instagram dei più votati adesso li portiamo a tre tramite un sondaggio e poi una giuria di 25 persone gli amici di amala tv se vogliono essere in giuria sono ben accetti ehm voterà il vincitore allora sono ajgtv overtime zona fanta eh cronache si eh bobo tv eh no però non ce ne stanno sei zona fanta l'hai messo? eh ce ne stanno cinque boss ce ne stanno cinque mazza eh dobbiamo fare uno spareggio allora cosa facciamo facciamo chat facciamo uno spareggio eh si facciamo uno spareggio tra diciamo gli eliminati facciamo il primo sondaggio qua e poi dopo teniamo come si chiama chi è che c'è rimasto fuori no se no come stanno dicendo facciamo tre tre però chi vuole votare uno dei tre che rimangono fuori nel primo sondaggio non voti in modo che andiamo a prendere proprio il numero di votanti e non la percentuale quindi facciamo chi eliminiamo giusto? no fai tre le prime tre e poi mettiamo le altre tre e andiamo a contare i votanti invece delle percentuali ma boh mi fido di te io faccio chi passa il turno giusto miga? si o comunque vota il tuo preferito tra i sei però se il loro preferito è nei tre che ci saranno nel secondo non votino nel primo insomma si si ci affidiamo a questa cosa qua dai votate votate è partito il sondaggio è partito è partito è partito votate immediatamente ragazzi chi volete che passa alla finale votate adesso non fatelo mai più votate votate in chat voto anche io over time anche io voto quindi chi invece vuole votare i tre che sono rimasti fuori non voti adesso voti solo dopo allora io mi ricegno io e voti eh si 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 ragazzi purtroppo fare il pool solamente a 5 quindi non potevamo metterli tutte e 6 ma quelli ne avevamo anche detto tra l'altro a Infante ma quelli di Instagram si sa che non capiscono un cazzo è così vabbè allora ma over time farai super seguito su Spotify è il canale più seguito su Spotify ragazzi è il podcast più seguito io di basket non capisco uno per venire da noi allora over time 115 voti AJGTV 50 voti zona Fanta 27 voti vai vai li ho segnati li ho segnati ok andiamo gli altri tre però andiamo sugli altri tre nuovo sondaggio secondo me Juventibus insidia allora chi passa il turno allora Juventibus cronache e Bobo cronache di spogliatoio vabbè l'ho scritto male però avete capito Bobo Bobo TV allora vado ragazzi votate gli altri due o non fatelo mai più io ho già votato over time quindi non voto sì chi ha già votato non votasse ragazzi sì vabbè lo staranno facendo ma va bene lo stesso ma che cazzo sta a fare a votare la Bobo TV ma dai vabbè è lecito è quella che fa più ascolti non è che è ma non è proprio un podcast è andato male Juventibus se non me lo aspettavo anche io pensavo che Juventibus prendesse più voti sinceramente specie dopo l'endorsement che avevate fatto voi ma dura l'ex ex lex amico mio ma Bobo e questi sono Bobo cronache overtime Bobo TV 123 voti si candida come già pensavamo tra l'altro da per la migliore ragazzi cronache 68 sta quasi finendo il sondaggio votate ragazzi votate vediamo se Juventibus toglie il posto ad AGG se avete già votato non votate ragazzi ovviamente vi chiedo per favore che è un po' al fil di cotone al fil di cotone attenzione c'è da dire una cosa che questo l'ho fatto durare di più come pool eh ok un po' pilotato lo devo rifare no tanto adesso fai lo spareggio tra quelli che sono arrivati ma che spareggio no c'è la somma dei voti si va a vedere scusa giusto o no però se l'hai fatto durare di più hanno preso più voti allora rifaccio l'altro che due coglioni però porca po' sei l'unico che rompe il cacco fai lo spareggio tra le due Juventus fai lo spareggio tra le due ultime è anche giusto ok facciamo lo spareggio bisognerebbe farlo su come si chiama su google fogli il sondaggio mettere tutte le categorie e far votare le persone sicuramente Juventibus e Cronache e Bobo TV e poi uno tra Juventus e AJG no scusami scusami un secondo Manfred passa in tre devono passare a questo punto passa overtime ah hai ragione hai ragione hai ragione hai ragione overtime Cronache e e Bobo TV sì sì è ragione è ragione non c'è bisogno non c'è bisogno dello spareggio vaffanculo mi dispiace per gli amici di AJG TV o per gli amici di Juventibus e anche per mi dispiace dicevo non avete pensato di fare le votazioni su google fogli senti miga noi è da ieri che non dormiamo per fare sti cazzo di sondaggi di merda no no miga quello che dici tu lo faremo per la giuria ah ok ok visto che anche tu ne fai parte lo riceverai riceverai un foglio con le tre cose insomma voti allora andiamo ci hai fatto la storia o no no ancora no ma dovevo già fare allora andiamo un attimo sul gotgamer ragazzi andiamo sul gotgamer aspetta un attimo perché è arrivato un ospite è arrivato un ospite un secondo scusate così gigante Fabio maestro 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 c'è anche il maestro diciamo più o meno indicativamente c'è il suo cartonato sì il cartonato del maestro torniamo un attimo a noi intanto che aspettiamo il maestro allora got dei gamer ovviamente sportivi ai ragazzi cioè che trattano di fifa e di calcio abbiamo chiesto allora si sono qualificati turi istaron yoshi93 twitch hollywood 285 fusegamer e zano complimenti a tutti e sei innanzitutto tanto per cominciare maestro c'è maestro maestro senza connessione ciao a tutti auguri a eri andrea ciao auguri ciao maestro in connessione ciao auguri auguri allora Fabio stiamo votando abbiamo appena votato i tre migliori podcast che vanno alla finale stiamo parlando dei got e wars adesso andiamo su i tre i sei gamer diciamo allora io direi di partire immediatamente con il sondaggio mentre chiedo amica un parere su secondo lui quali sono qual è il top anzi ma fra se lo condividi bravo grazie se lo condividi te così io intanto preparo il sondaggio eccoli qua vorrei non dire zano solo perché è più seguito però effettivamente tra quelli che fanno streaming zano è quello che riesce a intrattenere meglio a prescindere dal fatto che sappia giocare o meno è un bravo intrattenitore quindi voto zano allora io ti dirò di questi conosco solo zano e ron su fifa e hollywood solo che ti spiego hollywood lo guardo su youtube per vedere dei consigli su come giocare anche io zano lo guardo soprattutto per ridere e perché poi da quando fece la carriera con inzaghi mi è entrato nel cuore e ron però su twitch diciamo che lo vedo molto volentieri perché da diciamo dei consigli utili cioè zano non dà quasi mai consigli e se li dà sono tutti consigli che a quelli un po' normali come non servono tanto secondo me è stato che fa gli auguri anche in chat su come giocano i pro poi non serve un cazzo poi voglio dire quello che c'è puoi far ridere per carità questo io ho parlato di intrattenimento semplicemente no no per carità io ovviamente penso che se la giocano ron e zano e hollywood anche lui secondo me è uno dei più interessanti ma è partito il primo sondaggio no no stavo aspettando un secondo che volevo chiedere il parere anche ad aug e a harry o a fabio anche se fabio non so se ne conosce troppo di gamer sono qua per imparare e ascolti insieme maestro ti fanno gli auguri tutti io trovo che se è scandaroso che manchi ricard va bene basta sciscione harry prego grazie a francesco piazzola per il quattordicesimo mese grazie mille sono d'accordo con manfredi io voto zano perché perché ti trattiene quando fa lo streaming ti piace guardarlo ok facciamo partire il sondaggio intanto che è partito ragazzi votate che dura un minuto zano fusegamer o turi votate tra questi innanzitutto prima poi facciamo gli altri tre se votate qua non potete votare dopo cioè potete però siete delle merde sono falsate tutto è vero sì sì nel senso che non dovete votare il vostro preferito tra questi tre ma balcone abbiamo trovato una quadra la facciamo così e amen dai tre tre non è un problema tanto poi si vede quanti voti hanno preso ripeto non dovete votare il preferito tra questi tre dovete votare il preferito tra i sei quindi se non c'è in questi aspettate quelli dopo esatto è un plebiscito qui per zano mi sembra ovviamente 188 voti quasi il doppio della bobo tv nel sondaggio prima ma infatti fra i tre se posso fare un pronostico secondo me arriva zano hollywood e ron allora aspetta un secondo che c'è il balcone che si opera ladra che vuole il balcone balcone vieni live vieni live ti mando il link grazie a zanetti 4g intanto per il prime adesso mando il link al balcone che ci spiega come lo dobbiamo fare no no che dopo entra Damiano e gli dice il popolista no no però ragazzi a questo Marco Gizzi che sta scrivendo è sbagliato se metti Fius con zano è ovvio che Fius prende pochissimi voti abbiamo ribadito che non si vote il preferito tra i tre ma si vote il preferito tra i sei quindi se non c'è in questo nei prossimi non è che qua voti il preferito di questi tre non è difficile forse ragazzi eh no l'avrebbe capito anche il mio cuginetto no ma anche perché chi vince adesso non è che vince ragazzi stiamo candidando i tre più votati diciamo alla finale e verrà poi invece votato come per il pallone d'oro da una giuria di addetti ai lavori anche perché sennò vince sempre quello che ha più fan non usiamo questi termini ragazzi in chat che c'è mi hanno usato no brutto non mi piace va bene ok eh ma se non voto una volta sola peggio c'è non avete capito un cazzo ok quindi cosa dobbiamo fare mafra non ho capito no vabbè io andrei avanti così ragazzi ah non puoi entrare è balcone se non puoi entrare non so che cosa dirti allora votiamo gli altri tre ragazzi chi deve passare il turno ma perché è falsato un sondaggio porca troia ma poi è fede no ma questo è fede227 cioè fede227 se tu gli regali dei soldi e sei di sto canale ti rompe il cazzo io non so ancora che cazzo ci segui e tutte le volte rinnova per rompermi il cazzo c'è scritto vergogna ma vai affanculo allora aspetta un attimo che mi avventiare gli altri allora holly wood 285 abbiamo troppo affidazione dei nostri fan effettivamente instaron e fede cosa cazzo ingaggiate infante su istag ce l'ha anche con infante e turi giusto mancava ragazzi si no turi l'hai messo prima ron yoshi ah yoshi 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 minchia pensa se sbagliavo il sondaggio fede227 che cazzo diceva mamma rugarma eh ma questi vanno forti tutti e tre vado ragazzi votate 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 adesso non fatelo mai più eccolo qua chi deve passare il turno ragazzi istaron hollywood yoshi twitch votate adesso non fatelo mai più quanti voti ha preso zano 100 195 98 eh 95 bravo manfa che le hai scritte che sennò qua rischiamo veramente oh bravo borlello io prima ho votato adesso no oh qualcuno l'ha capito allora tra l'altro li ho scritti solo io quindi posso fare il cazzo che voglio vabbè ma vuoi che fede227 non abbia una prova no secondo me fede fede a fede io li sto simpatico non mi ha mai scritto niente ma guarda che in realtà è un allora adesso white widow te lo leggo che cosa hai scritto ho capito però white widow oggi non hai fumato te lo dico si vede proprio palesemente votate allora ovviamente non è ron 108 hollywood 54 yoshi twitch 32 manfre vanno alla fase finale zano ron e hollywood e questi sono i tre più votati ragazzi per quanto riguarda la parte gaming ripetite un attimo mafre per quanto riguarda la parte dei podcast che cazzo ridi che cazzo ridi che stiamo diventando scemi vedete ha scritto mettetemi dietro le quinte a lavorare al posto di quell'ubriaco d'infante raga ma contate che sta roba qua noi l'abbiamo messa sul 25 al giorno di natale anziché farci i cazzi nostri e drogarci come e bere come tutti gli altri ci siamo messi lì a dire non ci ha pagato twitch lo facciamo noi come lo facciamo per darvi un contenuto in questo periodo di merda e dovete rompere il cazzo in questa domanda c'è tutto da daez i voti nei commenti instagram non li contate no abbiamo detto che contiamo solo quelli delle storie ma instagram per noi no valgono si fa una media vanno a vederlo infante ce lo riferisce però ragazzi adesso non è che diamo credito a quello che uno scrive su instagram cioè su twitch c'è un pubblico un po' più maturo noi nasciamo come podcast twitch a oggi e quindi cioè su instagram diciamo facciamo una prima schrematura insomma aspetta che adesso arriva il bello allora adesso andiamo sugli ultimi due categorie che dio ci aiuti prego manfre adesso ci divertiamo oh Fabione non ti puoi esprimere cosa? no c'è anche Bergomi qua allora youtuber goat il cui presente Fabio Bergomi presente assente di vita non solo di calcio e lo invito a ricalcolare il suo pensiero sulla premier però va bene un'altra puntata asso di roma che sono spesso nei nostri diciamo salottini mentre abbiamo anche Seacwolf Gabomen anche Gabomen viene spesso da noi Luca Mastrangelo Luca Bomber e Tatino quindi sono un tifoso della Juve uno tre della Roma uno e due dell'Inter quindi quelli della Roma sono quelli che vanno più forti su YouTube che ce l'ha con te chi? Aldo grande Aldo beh vabbè non è una novità interrompici ci sono robe serie non quel tossico di Aldo per favore io voglio che Aldo e Fede facciano un podcast e andrò a seguire allora partiamo con i primi tre o ci vogliamo un attimo esprimere allora io vi dico la verità per me io l'ho scritto anche sotto per me il got degli youtuber che mi fa cagare come nome ma per fotografare una categoria è ovviamente il maestro Fabio Bergomi però io sono molto di parte capisco grazie pancia non vale però se volete mi tolgo io so che sono democratico no no già esserci per un'uomo di storia poi per me conta la chat che in questo momento mi saluta quindi però posso dire una cosa iniziativa veramente bellissima pancia complimenti grazie Fabione mi ha intrippato e io che sono una capra in altri argomenti seguo per capire anche il discorso game e altre cose bravo grazie Fabione no perché così diamo anche credito a noi e alle figure che sono gli addetti ai lavori che fanno vivere il calcio su internet H24 no e non solo i calciatori perché il calcio è fatto anche non dei 90 minuti delle partite ma dello show continua grazie a tanti addetti ai lavori che anche sui social fanno loro comunque Manfred voglio sentire d'Augusto io voto Asso ma il partito è già prima di questa situazione perché poi alla fine io dico la verità nel senso quando la Roma perde loro sono veramente divertenti ma tutti quanti però lui è particolarmente tifoso particolarmente appassionato e ci mette quel qualcosa in più ecco non c'è prima valle quindi voto Asso attenzione si è abbonato Jeff Bezos grazie mille Jeff per l'abbonamento salutiamo il presidente grande presidente un presidente c'è solo allora grazie anche a Roberto Carcagno al 97 Zanetti e anche a White Weedle che due ore che mi sta dicendo Andre mi leggi White devi praticamente uscire e rientrare perché non me lo dà l'abbonamento ti do sta notizia qua mi dispiace veramente Manfred quanti ne mancano al gol per favore scusa ma al gol giornaliero si siamo a 1435 dobbiamo arrivare a 1500 ah no ok quello di 1500 dici ne mancano 65 ok attiglione non è arrivato neanche il tuo non ti ho scammato non li ho visti uscite e rientrate ragazzi se non arriva la notifica allora Miga te invece chi dici ma io da questa votazione mi tiro fuori perché no 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 ti spiego anche perché perché io non seguo come content su internet il content reaction quindi non saprei chi votare proprio ok 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 ti hai fatto il paraculo va bene no no è vero è vero sì sì ok Harry una scelta molto difficile perché le seguo praticamente tutti quanti tranne Luca e Tatino e a mai cuore mi dispiace Fabio ma scelgo Asso a tiro galline scusami attenzione un altro Asso anche Fabio voterebbe per Asso ma anche te Manfred che poi faccio il sondaggio allora ti dico la verità agli inizi quando proprio è nato il tutto di OCV Sport io avevo un debole per sequel proprio mi facevo impazzire e poi lo prendo grazie un attimo Manfred grazie a prova.jpeg che regala 10 abbonamenti e diventa il top mecenate della settimana spam di mecenate aggiorniamo la lavagna immediatamente secondo me è un nuovo account di Ricca non lo so Ricca dici se sei tu secondo me no spam di mecenate in chat ragazzi per favore grazie per il sostegno vola al primo posto quindi prova.jpeg punto scritto per esteso non è un punto secondo Levario terzo Peppuz a pari merito col Miga comunque intanto vi rimetto la grafica e parto con il pull vedo che in chat vi state abbastanza ammazzandolo a parto con Asso di Roma Luca Bomber e Tatino ragazzi se votate e poi facciamo anche la parte di destra Fabio Seacolf e Gabomen partito amici votate adesso il got degli youtuber per arrivare in finale in finale se votate adesso non potete votare dopo cioè potete però non fatelo no dicevo io avevo un debole per Seacolf all'inizio mi faceva impazzire proprio poi però è un po' cambiato non lo so voterei uno tra Asso e Bergomi però io seguivo anch'io Manfred seguivo anch'io C'è Sicco mi sentivo mi hanno fatto un sacco di cose anche in day insieme devo dire che all'inizio Sicco portava dei contenuti ecco sul calcio inglese molto belli Sicco faceva dei video belli cioè se volevi seguire alcune cose non seguivi tutto il calcio perché non c'era tempo in questo caso però devo dire ma quando ha tirato fuori Ciccio ah lui Ciccio che poi serve come Cicco ma Asso non l'ha più detto l'altra volta Ciccio allora ferma ferma un attimo quindi Asso secondo me no scusa dicevo solo Manfred prenditi il punto dei voti no sì sì ce li ho Asso è Asso è l'immediatezza nello rispondere che denota intelligenza preparazione ma ma anche un romanesco che però non pesa la cucina poi una persona buona sempre cioè Asso veramente mi fa schiattare allora non lo so due domande a cui volevo spendere ragazzi noi non è che abbiamo messo anche quelli che vengono nel podcast noi nel podcast invitiamo tutti abbiamo invitato anche Mastrangelo Sikwolf anche quelli che vedete nati per vincere sono venuti c'è qualcuno con il quale magari io con Fabio per esempio mi sento spesso vengono più spesso però non è che sono Fabio o piuttosto che Asso hanno il loro canale sono diciamo dei resident ormai qua perché ci troviamo bene siamo amici c'è un bel rapporto con Fabio addirittura c'è anche l'idea di fare un format suo però noi diamo cioè questo sta nella mente vostra di cercare di tenere staccato le cose però non è che possiamo imporvelo voi o precludere a Fabio Asso di non partecipare che sono i voti sono oggettivi non c'entrano un cazzo con il nostro podcast esatto noi più che toglierci noi allora non ti abbiamo sentito Fabione no ha riassunto Manfredi e e comunque mi bastano i complimenti di Henry e anche volevo sapere perché da Manfredi perché gli piaceva il mio canale questo mi hai visto che insomma lo considero un go atto in generale sì 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 no no mi piace non mi piace solo quella cosa che hai sulla Premier League ma questo lo affronteremo allora andiamo con il secondo pool Bergomi Sequel Fegabomen Fabio sei finito probabilmente con i tre più con i due più forti allora inizia il pool votate ragazzi non fatelo mai più adesso se votate ovviamente avete già votato prima vi chiediamo di non votare adesso sono in diretta ho preso dei mostri e vai percentuale bulgare Giuseppe ha scritto si vergogni pancio già si sa chi vince Bergomi non ha senso votare io non dovevo neanche essere qui infatti sono qua è scritto che mi sono mai presentato così diciamo bene ho lasciato perché ho ancora un po' la gola e ho il pappagallo se mi vedete che faccio con la mazza perché ha deciso oggi di fare il bagno e quando il pappagallo fa il bagno si butta nella ciotola votate votate ragazzi votate 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 per favore Fabio c'è un po' un rientro allora chiuso il sondaggio direi Bergomi 136 voti Gabomen 64 Sequel 18 se non sbaglio Manfred chi passa il turno tra le varie polemiche per favore passano il turno degli youtuber got youtuber Asso di Roma Fabio Bergomi e Gabomen complimenti ragazzi complimenti ragazzi vanno in finale questi tre qua non mancheranno le polemiche probabilmente ma è il bello dei contest è il bello dei contest no Gabomen 18 voti non ne ha presi 18 scusami Fabio 18 tatino 18 tatino allora io li ho tenuti Gabomen ne ha presi 64 Sequel 18 Bergomi 138 io li tengo aperti così non rompete il caglio già lo sapevo che rompevate i coglioni e li ho tenuti tutte e due ce li ho scritti ce li ho scritti già lo sapevo che rompevate i coglioni ragazzi per quanto riguarda io vi dico la verità secondo me io mi trovo abbastanza con questi tipi di votazioni sono contento che non abbiano vinto i canali con più iscritti perché avevo paura un pochino di quello secondo me vi dico l'unica roba che è un pochino forviante sicuramente con Asso e Fabio è il fatto secondo me più che voi venite nel podcast che il tenore diciamo del programma nostro è più simile a un pubblico adulto quindi magari penalizza un po' di più Fuse e avvantaggia Fabio indicativamente perché noi anche come anagrafiche del canale se li andiamo a vedere siamo un canale Twitch che ha dei numeri cioè un target un po' grandicello rispetto agli altri canali Twitch generalmente comunque andiamo al prossimo Manfred l'ultimo per favore se no ci vado io eccolo qua ce l'abbiamo eccolo qua no no non stai condividendo la mia pagina ah scusa stavo condividendo la mia eccolo qua che è l'insider insiders diciamo per intenderci insiders di mercato cioè le persone che fanno calcio mercato quelle da cui vi recate per controllare se un affare è stato fatto o meno allora abbiamo Pedullà Di Marzio Fabrizio Romano Longari Schira e il grandissimo Damiano Coccia ok questa è dura è molto dura secondo me è la più difficile delle quattro eh sì vai Manfred o Fabio se ti vuoi che ti esprimere te io ce l'ho quindi sono quelli a sinistra i primi tre parliamo dei primi tre no? sì no no beh tu falle in generale falle in generale scusami ah perché stavo tutti sei tutti sei sì sì beh io allora vi dico il mio per me sinceramente il rapporto migliore io noi ce l'abbiamo con Alfredo Pedullà che è venuto anche qua nel canale abbiamo un ottimo con Longari sì anche con Gian vabbè Longari è appena andato via non era neanche da dire mi ha fatto un'ottima impressione Schira non l'ho ancora conosciuto mi ha fatto di Marzio non c'ha bisogno di insomma di niente però a me proprio Romano ragazzi quando l'abbiamo conosciuto a Roma mi ha fatto un'impressione della Madonna ma senza non anche di Marzio molto però Romano proprio sai quelle persone che a pelle dici però secondo me ecco io voto Pedullà perché secondo me lui dà più notizie del calcio minore che possono anche interessare a partire dalla Lega Pro dal calcio comunque anche di Marzio di Marzio sì però lui è molto più dentro Pedullà è molto più preciso rispetto a ma Freddy scusami secondo dicono che c'erano gli stessi punti tra Mastrangelo e Gabomen no c'è Gabomen 64 e Mastrangelo 62 ci ho scritto io ok dopo comunque andiamo a controllare ragazzi scusami Sì sono più o meno gli stessi voto voto per Alfredo perché secondo me è quello più che è più completo e soprattutto dà spazio anche le squadre non di prima fascia ma anche di campionati migliori Henry da esperto di mercato allora sono tutti bravi devo dire sono tutti bravi però il cuore mi porta da Di Marzio perché l'ho pure incontrato e anche ho visto dall'esterno dietro alle quinte quanto lavoro c'ha perché stavo ogni minuto al telefono non era per niente facile soprattutto un periodo dove c'era l'europeo e quando parla di mercato a me cioè mi innamoro di Di Marzio mi piacerebbe in futuro anche di collaborare insieme a voi pensavo starci ok dichiarazioni forti dichiarazioni forti miga io ti dico quello da cui mi recco ogni qualvolta voglio avere una notizia di Di Marzio Fabione te chi dici? Ti si vede da Dio Fabio anche per dare una mano al voto alla chat dico la mia Di Marzio ha dei libri che ti fanno capire che dietro c'è uno staff e un grande lavoro a volte mi ha sorpreso in negativo per il tiraggio e per che è ingiustificato e perché a volte è arrivato tardi su cose troppo troppo evidenti Fabrizio Romano è una sentenza quando lui dice che una cosa è alla fine in effetti esce dopo ma è granitico il Faina per me è il futuro cioè quest'anno veramente tra United e Ronaldo e Lukaku ho visto che io sono dalla parte del web ha fatto una figura bellissima Damiano e l'Hongari lo conosco poco so che viene qua è anche un ragazzo d'oro quindi ma lo conosco poco Pedula e Venui quando si parlava di Onana mi sembra molto umano e molto sul pezzo si anche Fabio adesso tornata ad andare un po' così la la linea Manfred e te invece chi dici che poi andiamo su lui manca uno però aspetta allora Fabio ti ho interrotto perché praticamente ti si è interrotta la linea non ti si sentiva più non so se stavi finendo non volevo essere maleducato c'è una connessione va bene allora ragazzi votate adesso prima semifinale è tra Pedula Romano e Schira votate adesso per favore ragazzi partito adesso ce lo guardiamo in diretta come va tre finalisti passano di sei se votate da una parte non votate dall'altra per favore sì sì fondamentale questo azz Romano sta spingendo beh Romano perché alla fine Romano se uno segue l'affidabilità insomma però io avrei avrei buttato Pedula per come è venuto da noi per come si è reso disponibile ecco grazie Ale Planta per l'abbonamento tre mesi grande grande votate ragazzi votate votate io vi ricordo che ho contattate Riccard perché ha qualcosa che non va nella sua carta di credito oppure voglio dire grazie a Franco sei ridicolo sei veramente ridicolo allora se non funziona risolveteli il problema Romano 183 voti Schira 40 Pedula 30 Manfre andiamo a vedere gli altri tre 36 scusami no aspetta che lo rimetto 36 scusami grazie anche a Davide Mix andiamo col nuovo Fabio numero uno chi volete in finale non me l'aspettavo tra l'altro che Schira passasse Pedula scrive Riccard posso giocare lo stesso no tre bambini sfigati per me sì Riccard e gli altri dieci poi si gioca allora ragazzi andiamo con il secondo sondaggio Di Marzio partite votate subito ragazzi se avete già votato prima non votate Di Marzio Longari Damiano Coccia eccoli qua Di Marzio Longari e Damiano Coccia però Coccia alla fine è quello che ne ha presi è vero che le spara grosse quindi a volte non le becca proprio no secondo me è quello che si vende meglio semplicemente io mi dissocio anzi ne tratta pure di meno rispetto agli altri cioè lui fa solo determinati acquisti allora Riccard ovviamente no se no poi chissà che pensano di noi ovviamente stiamo scherzando no 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 aspetta fammi finire stiamo scherzando nel senso che tu sei sempre il nostro preferito però noi diamo lunedì l'opportunità a chi dona di più di giocare c'è una regola non è che cioè tu puoi anche fare quello che vuoi chiaramente non è che siamo così attaccati ai soldi ma chi allora Di Marzio Di Marzio 112 voti Damiano Coccia 86 adesso io farei un pull un attimo Longari 24 io gli dico una cosa ferma un attimo io direi di fare un pull tra Schira e il Tacchino perché secondo me rischiamo di falsare il sondaggio a sto punto allora adesso quelli che hanno più voti sono Romano Di Marzio e Faina allora questi dovrebbero essere quelli che passano ragazzi però non vorrei mi dispiace che Damiano non non ci sia però ha preso la metà non abbiamo fatto i sondaggi per quelli che ne sono arrivati i simili io lo farei un sondaggio tra Schira e Damiano al volo chiedo alla chat se posso anzi faccio il sondaggio se posso fare il sondaggio ma anche perché tu hai metti che poi Faina ci dissa si crea la polemica avete stracciato il regolamento raga è tutto ascolti meglio 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 noi vogliamo le poli facciamo sondaggio voi non ti offendere se Fede e Aldo ti insultano Schira e Coccia ma che sondaggio è sto chiedendo o si oppure no sono stati dati i voti vanno rispettati vabbè l'ho abbreviato raga stacchino con più voti di Pedullab chiudete il sondaggio allora scrivete se va rifatto il sondaggio si o no ovviamente votate se volete fare il sondaggio Traschira che l'ho scritto malissimo è Coccia o se invece bisogna tenere rivolti pure suadaggio l'hai scritto vabbè sto facendo al volo raga non è che posso far tutto allora lo fai te mentre mangi quella crostata di merda e non rompi i coglioni no anch'io vorrei mangiare una crostata adesso ma dai in portoghese un suadaggio ma vai affanculo rompi che non sei altro io da oggi tutti i giorni vado su quel sito del cazzo e ti trovo tutti gli errori che fai su bianco andate su noi siamo bianco celesti a trovare tutti gli errori noi bianco celesti dio bello dio bello volentrano allora 40 mi devo salutare ciao miga ciao miga ciao miga stai andando in live si si allora dopo ti facciamo il ride ciao migone a dopo grazie a te grazie a te che sei passato allora il 56% della chat ha votato di fare il suadaggio capito lo facciamo o no raga una vergogna si vergognoso facciamo dai è vergognoso una vergogna però però c'è anche chi dice falsiate falsiamo gli altri secondo me è forse giusto dare a coccia quel che è di coccia se è stato così ragazzi siamo su internet se fossimo in televisione vi dico una roba se fossimo io sono stato a proporlo però se fossimo in tv uno come coccia manco lo mettevo non solo perché viene da internet siamo su internet è giusto diciamo dare valore ai voti della rete quindi non lo facciamo no sondaggio non ce ne farei un cazzo del sondaggio che ho fatto non ce ne farei un cazzo grazie a tutti